Buongiorno a tutti, bentrovati, oggi video speed, giornata di partita, giornata molto importante, giornata anche di polemiche, partita decisiva, si comincia una settimana di fuoco, prima la Lazio Sheriff e poi Juve, partita falsata da questa assurdità delle nazionali, gli abbiamo fornito su un piatto d'argento l'assist in conferenza stampa Simone Inzaghi, lui l'ha detto, in Spagna fanno meglio, hanno rinviato le partite di Reale Atletico, hanno una preoccupazione anche per il cammino europeo delle loro squadre, bisognava pensarci prima, adesso bisogna affrontare la situazione con il grosso dubbio Lautaro e anche Correa e Vecino che sono arrivati a tarda notte a Roma nel ritiro nerazzurro, dovrà decidere con un colloquio a quattro occhi Simone Inzaghi sul loro utilizzo, però sono arrivati veramente tardi e quindi c'è grossa preoccupazione anche perché non hanno ancora assorbito il jet lag, quindi un po' di rabbia insieme all'emozione del suo ritorno a Roma dopo 22 anni, la prima volta da avversario per Simone Inzaghi che dovrà cercare di ricominciare col piede giusto per prepararsi poi alle sfide con Sheriff e Juve nel modo migliore contro una Lazio da alti e bassi ma che con Sarri sicuramente è squadra, l'è sempre stata ma forse ancora un po' di più temibile, grosso dubbio di formazione abbiamo detto, Lautaro o Perisic in attacco con Dzeko, da questa decisione poi dipenderà chi giocherà sulla fascia sinistra, Perisic o Di Marco a centrocampo, ci sarà invece Gagliardini con Barella e Brozovic perché Vecino è stanco e Cialanoglio ha rimediato una distorsione importante con la Turchia e si accomoderà all'inizio in panchina, a destra ci sarà Darmian, Barella e Brozovic e appunto Gagliardini in mezzo con difesa tipo Bastoni, De Vrij-Skriniar davanti ad Andanovic, questo l'undici di partenza per una partita così importante però chiaramente falsata da questa assurda pausa per i nazionali con queste gare tra giovedì e venerdì che impediscono di tornare ai giocatori, addirittura Vidale e Sanchez sono stati mandati direttamente a Milano anche perché non si può non pensare alla gara con lo Sheriff e anche al rischio che si poi si corre con i giocatori stanchi che scendono in campo bisogna avere un occhio di riguardo in più per queste situazioni e anche Federazione e Lega dovrebbero farsi un po' sentire a livello internazionale per evitare che un campionato venga falsato in questo modo, ne abbiamo già parlato, servono assolutamente gli occhiali scaramantici per la gara di quest'oggi per scacciare nuvole e stanchezza, figurine di nipotino pronte con anche quella di Carmine che ci ha inviato un barella versione azzurro, campione d'Europa con quella maglia lì bianca della nazionale insieme a quella di Skriniar che non mancano mai, maglia pittonata, lasciarpe lo scudetto, il trap e lo stemmone del passato per essere pronti alla gara di quest'oggi, da cui dipenderà anche poi la settimana, una settimana rovente per cercare di ripartire con il piede giusto, video molto veloce, aspettando anche un rinnovo di Brozovic che sarà abbastanza complicato, prende tempo, questa è la sensazione, si guarda intorno, aspetta le offerte migliori se la vuole giocare bene questa firma, Brozovic saltato, il primo incontro tra virgolette, si aspettava che il padre e l'avvocatessa che ne curano gli interessi arrivassero già in Italia in questo fine settimana probabilmente arrivano dopo la gara di Champions, come vi ho anticipato, però guadagna di più di quello che si legge Brozovic con i premi e bonus arriva quasi a 5 milioni, quindi servirà una cifra molto importante per convincerlo a firmare con l'Inter si parla anche di un sostanzioso bonus alla firma che ormai è diventata consuetudine per i giocatori in scadenza che praticamente chiedono un anno in più per rimanere e così chiedono alle squadre invece che fanno a loro le offerte una sostanziosa diciamo buona entrata, la chiamiamo così, tutto da vedere settimana prossima da cominciare questa trattativa per evitare di perdere a zero un giocatore fondamentale lo vedremo bene, adesso andiamo veloci a leggere un po' i giornali, un paio di messaggi così per entrare in clima e poi andare verso la giornata di oggi, ore 13, le ultime sulla formazione cercherò di dirvi già si giocano Lautaro, poi su Italia 1 naturalmente poi live e partita a vivere tutti insieme, mi raccomando e a fine gara sempre qui vi voglio tutti per le pagelle un paio di messaggi prima di andare in edicola Marco preferisco parlare della nostra grande squadra, tutto il resto lo lascia chi di dovere il mondo della finanza per me è un mondo sconosciuto quindi onde evitare di far figuraccia preferisco limitarmi a parlare di quello che conosco, ovvero l'Inter e domani sarà dura ma crediamoci sempre, Inter forever, cominciamo così, la nostra messaggistica Lollorispoli, la crescita del Toro impressionante, segna fa segnare, il Toro è il nostro presente deve essere anche il nostro futuro, 17 gol nell'era scaloni con l'Argentina addirittura due più di Messi, lasciamo perdere tutte le news o fake news e pensiamo alla Lazio Faber, Forza Inter, buona giornata Marco, bisognerà prendere una decisione riguardo alle nazionali credo che più che rinviare le partite in campionato sia più giusto magari dedicare un mese alle nazionali lasciare la stagione intera, Brozovic fa le tattiche, meglio che stia a campo ricorda i tempi passati, grande Marco tutti concentrati per Ux e Doda Novara solo pochissimi personaggi dell'alta finanza possono sapere se sia una trattativa reale o una fake naturalmente riferita alla trattativa con PIF di cui stiamo cercando conferme continuiamo a investigare, non mi vergogno a dire che di finanza non ci capisco un bel niente Marco ci scrive così quindi non posso schierarmi su Discord PIF e nemmeno voglio farlo perché mi interessa il calcio giocato, grande Super Barza su PIF, tutti alla ricerca di like e clickbait Italo Paoletti, ora sono tutti esperti di finanza, il tuo realismo ed equilibrio sono la migliore garanzia per tutti noi mi chiede poi se punterei ancora per un altro anno su Andanovic titolare qui vediamo, vediamo da qui anche a Natale come andrà la stagione sicuramente può farlo un altro anno ad alto livello però gli affiancherei un altro titolare che non è Radu Maurizio, la cosa importante è che nessuno dei nostri è tornato infortunato a parte Giannoglu ha ciaccato e quelli che sono andati direttamente a Milano Lorenzo Iarac, il Lautaro titolare con un irremovibile Dzeko Correa può far male a partita in corso ricordiamoci che la Lazio si trova senza il pilastro a Cerbi mettiamo PIF e San Siro a parte testa e concentrazione per ottenere tre punti fondamentali adesso si pensa solo alla Lazio ciao Marco, Lautaro in gran forma non possiamo fare a meno di un toro così devastante titolare subito Antonio86 Sandro Alcini, non so come la pensi ma il lato morale per me con questo fondo PIF non mi sembra tanto pulito e non sei l'unico che dice questa cosa a grande umiltà di Materazzi a dire quello che ha detto lui è stato un grande difensore grintoso uno di quelli che davano grinta alla squadra e segnava spesso un Inter indimenticabile scusate ma tutti quelli che si augurano PIF mi dite cortesemente a quale di queste due categorie fate parte so che il presidente è accusato dalle inchieste di giornalisti qualificati non guardo le inchieste di telegiornali e non sono informato un po' di polemiche anche qui su PIF a Cerbi assenza molto importante per la Lazio nel gioco aereo abbiamo un vantaggio notevole da sfruttare sia con la zela che con i possibili inserimenti dei quinti occhio a Minkovic, Savic e Felipe Anderson buonasera Germanico concordo con i più concentrati sul filotto di partite importanti che aspetta i nostri colori Massimo Duchi, PIF o non PIF conta vincere con la Lazio è questo dunque testa la Lazio andiamo a vedere le ultime notizie su Sport Mediaset in home page vediamo cosa troviamo dubbio le Aurebic Maldini al posto di Diaz Inter Lautaro in extremis Inzaghi, Sanchez e Vidal a casa parlerò con Lautaro Corea liga più brava in questa situazione andiamo invece a leggere i giornali in edicola prima pagina della Gazzetta dedicata alla super sfida di oggi a Inzaghi contro il suo passato e anche titolo abbastanza polemico e ci dà abbastanza soddisfazione che arriva dalla nostra domanda così per azzittire un po' tutti i critici che spesso popolano i social due contro tutto Inter ansia per i sudamericani Milan fuori un altro riparte la lotta a scudetto tra polemiche e assenze la rabbia di Inzaghi il suo olimpico è un bivio e non sa se avrà Lautaro in Spagna si rinvia poi è la Pioli con anche Brain Diaz positivo l'Inter e l'ansia per i sudamericani brava la Liga a rinviare i match Simone solleva il caso degli stranieri arrivati soltanto ieri mentre in Spagna i rivali del Real riposano bisognava pensarci a inizio stagione e sul ritorno a Roma Lazio per me è casa tensione Inzaghi è il titolo in formazione c'è Lautaro con Gagliardina a centrocampo la stessa che abbiamo detto Lautaro il toro in extremis non ce la fa si scalda a Peris c'è l'attaccante ancora in gol con l'Argentina ha dormito a Roma su di lui si decide oggi uno strano venerdì di vigilia con un occhio al campo un altro al traffico aereo di questi tempi non si studiano solo i rivali ma pure le coincidenze internazionali impossibili ritardi seminati lungo il percorso così ieri Simone Inzaghi ha guardato i cieli poi ha aspettato con ansia fino a tarda sera il ritorno del figliolo prodigo Lautaro anzi figlioli rientrati da Sud America a Correa e anche Vecino una volta raccolti i coach Inzaghi spera che le punte argentine reduci dall'impegno col Perù nella notte giovedì battano il jet lag e ritrovino forza dopo un addormitone in albergo la sede di stasera con la Lazio reclama massimo impegno la situazione sarebbe beffarda già di suo ma lo è ancora di più se si allarga lo sguardo la Spagna ha concesso un meritato tutto turno di riposo alle due squadre della propria Liga impegnate martedì in Champions il Real che divide il girone con i nerazzurri e l'Atletico che lo fa con il Milan a differenza evidente come il rischio di modificare la corsa europea sul tema col solito garbo della casa ma con decisione intervenuto in zaghi in Liga sono stati bravi a rinviare le partite un discorso che andava affrontato all'inizio stagione come dire la frittata è ormai fatta meglio capire come rigirarla abbiamo tante altre alternative però il rischio è elevato e appunto poi una pagina con la mossa della Liga Atletico e Real riposati in Champions rinviate le due gare di campionato dei club di Madrid per il rientro tardo dei sudamericani area bollente le pagelle di Crespo immobile velocità e gol Dzeko è una sentenza il bianco celeste frenetico il nero azzurro più saggio questo come presenta la partita la gazzetta dello sport vediamo velocemente anche il corriere dello sport che naturalmente da grosso risalto alla sfida di oggi e al ritorno a casa di Inzaghi dopo 22 anni si presenterà per la prima volta da avversario all'Olimpico come un derby una bella foto di Simone il Bello con da una parte Luiz Alberto immobile dall'altra Correa e Geco il ritorno di Inzaghi la rabbia di Sarri Ciro contro Geco Lazio Inter è specialissima all'Olimpico Mau chiede una reazione da uomini contesta il calendario altro che calcio è solo uno show Simone conta di schierare Lautaro ancora in due con l'Argentina per me non sarà mai una partita qualsiasi andiamo all'interno Sarri non è più il mio sport nel corriere dello sport c'è Peris non c'è Lautaro parole invece di Inzaghi Lautaro formato Qatar Peris c'è l'alternativa il Toro e il Vessino sono arrivati solo la tarda sera jet lag e stanchezza passeranno e peseranno Correa in panchina il Croato in pole per l'Olimpico ci sarebbe anche l'opzione Cialanoglu che però non è al meglio questo invece Inzaghi è un mondo capovolto torno a casa se mi fiscano lo accetterò una doppia pagina per il ritorno a Roma di Inzaghi l'Inter è pronta deve essere pulita e brava sul loro pressing i tifosi sanno che ho dato tutto studente maniacale di tutto il calcio per Ericsson era un allenatore nato dal primo gol in A proprio contro i Biancocelesti al gol dello Scudetto fino alla Supercoppa contro Sarri con la storia di un amore infinito ci mettiamo anche il gol il 5 maggio che non ci siamo dimenticati questo sul Corriere dello Sport velocemente anche tutto sport appuntamenti in live per vivere la partita insieme poi alle 13 taglia 1 e ci ritroviamo qui per le pagelle mi raccomando chiudiamo ora con se riusciamo se si apre soprattutto tutto sport rapidamente per questo video di partita di giornata non c'è il tè caldo perché l'abbiamo dovuto rifare e quindi siamo dovuti andare veloci a riregistrare perché c'era stato un problema tecnico emozioni inzaghi furia Sarri andiamo all'interno del quotidiano torinese qui è saltata l'app vediamo se ce la si fa non che funzioni molto bene questo è il DLM la furia di Sarri l'emozione di Inzaghi vediamo se ce la facciamo a sto giro andiamo all'interno Sarri alza la voce voglio risposte da veri uomini più che da giocatori questo è show non è più sport duello fantasia tra Cialanoglu Luis Alberto due pupilli di Inzaghi con Perisic anche su tutto sport torno in una casa che è stata mia per 22 stupendi anni è normale che per me non sia una partita come le altre so che ci saranno fischi applausi eccetterò tutto i tifosi sanno che ho sempre dato il massimo Lautaro decide se giocare a riduce dal lungo viaggio valuterà la possibilità di scendere in campo e vedremo cercherò di anticiparvelo alle ore 13 mi raccomando tutti concentrati si torna in campo finalmente peccato che mancherà qualche giocatore bisogna però riflettere bene anche perché se no si falsa un campionato e poi si corrono rischi per infortuni dei giocatori stanchi e che non possono fare queste faticacce tra virgolette naturalmente con le dovute proporzioni buona giornata ci rivediamo dopo mi raccomando un po' un po' un po' un po' Grazie.